Sono tornati a scuola i nostri figli, i nostri nipoti e volevo da tempo leggere una lettera che riguarda la scuola, i nostri figli e i nostri nipoti e la lettera che Abramo Lincoln, XVI presidente degli Stati Uniti, scrisse all'insegnante di suo figlio il primo giorno di scuola. Inizia così. Il mio figlioletto inizia oggi la scuola. Per lui tutto sarà strano e nuovo per un po' e desidero che sia trattato con delicatezza. È un'avventura che potrebbe portarlo ad attraversare continenti, un'avventura che probabilmente comprenderà guerre, tragedie e dolore. Vivere questa vita richiederà fede, amore e coraggio. Quindi, caro maestro, la prego di prenderlo per mano e di insegnargli le cose che dovrà conoscere. Gli trasferisca l'insegnamento ma con dolcezza, se può. Gli insegni che per ogni nemico c'è un amico. Dovrà sapere che non tutti gli uomini sono giusti, che non tutti gli uomini sono sinceri. Gli faccia però anche comprendere che per ogni farabutto c'è un eroe. Che per ogni politico disonesto c'è un capo pieno di dedizione. Gli insegni, se può, che dieci centesimi guadagnati valgono molto di più di un dollaro trovato. A scuola, caro maestro, è di gran lunga più onorevole essere bocciato che barare. Gli faccia imparare a perdere con eleganza e, quando vince, a godersi la vittoria. Gli insegni a essere garbato con le persone garbate e duro con le persone dure. Gli faccia apprendere anzitutto che i prepotenti sono i più facili da vincere. Lo conduca lontano, se può, dall'invidia e gli insegni il segreto della pacifica risata. Gli insegni, se possibile, di ridere quando è triste e a comprendere che non c'è vergogna nel pianto e che può esserci grandezza nell'insuccesso e disperazione nel successo. Gli insegni a farsi beffe dei cinici. Gli insegni, se possibile, quanto i libri siano meravigliosi, ma gli conceda anche il tempo di riflettere sull'eterno mistero degli uccelli nel cielo, delle api nel sole e dei fiori su una verde collina e come si costruisce un aquilone che insegna ad avere fede nelle sue idee, anche se tutti gli dicono che sbaglia. Mi vorrei soffermare su questo e lo ripeto. Gli insegni ad avere fede nelle sue idee, anche se tutti gli dicono che sbaglia. Cerchi di infondere in mio figlio la forza di non seguire la folla quando tutti gli altri lo fanno. Lo guidi ad ascoltare tutti, ma anche a filtrare quello che ode con lo schermo della verità e a prendere solo il buono che ne fuoriesce. Gli insegni a vendere talenti e cervello al miglior offerente, ma a non mettersi mai il cartellino del prezzo sul cuore e sull'anima. Gli faccia avere il coraggio di essere impaziente e la pazienza di essere coraggioso. Gli insegni sempre ad avere suprema fede nel genere umano e in Dio, si tratta di un compito impegnativo, maestro, ma veda che cosa può fare. È un bimbetto così grazioso. Ed è mio figlio. Abramo Lincoln all'insegnante di suo figlio nel 1830. Ed ora invece vi voglio leggere una lettera che mi è arrivata da una mamma, una amica di rete e mi ha scritto così proprio ieri sera. I nostri figli e i nostri ipoti sono ritornati a scuola. Sanno i problemi che stanno affrontando, lo sappiamo, la famosa storia dei banchi, le mascherine e tutte le regole abbastanza curiose. Mi si è concesso. La mamma mi scrive. Buonasera caro Enrico. Sono una mamma seriamente preoccupata. Sto vedendo cose assurde nella scuola. Una psicosi che dilaga. A bambini che vengono programmati come soldatini. Oggi, per esempio, mio figlio ha espresso un suo pensiero nel rispondere a una domanda. Un pensiero non allineato con quelli che detta il governo. Ma è un ragazzino di dieci anni, voglio dire. La maestra gli ha detto che non andava bene e gli ha fatto correggere il tutto secondo i parametri di questo folle periodo. Il primo giorno di scuola gli ha dato sottilmente del negazionista. Io lo volevo anche mettere in punizione per aver sfiorato un suo amichetto. Non si devono toccare, altrimenti rischiano il virus. Follia. Uno dei suoi più cari amici. Ma mio figlio si è rifiutato di andare in punizione. Mio figlio è così e ne sono fiera. Ma quest'anno gli daranno del filo da torcere, anche perché nella sua classe sono tutti ben allineati. Gli ho detto di esprimere sempre e serenamente ciò che pensa e di non farsi fare il lavaggio del cervello. Solo così potrà far valere i suoi diritti ora e nel futuro. La scuola era un luogo di comunione, di amore, di amicizia, di conoscenza. Una seconda famiglia. Ora stanno distruggendo tutto. La saluto e la ringrazio. Io ringrazio voi per avermi seguito e vorrei che le mamme, soprattutto le mamme, si riunissero e parlassero con i docenti presi dei professori. Mio nipote mi ha detto soltanto una cosa. Nonno, io non ce la faccio a stare 4-5 ore seduto di fila e fare la ricreazione seduto. Ha ragione. Grazie a tutti. Alla prossima lettura.